ragazzi e ragazze benvenuti e riaccomi sul computer per farvi vedere quest'oggi voi direte sempre installazioni e che palle no quest'oggi niente installazioni non riguarda nessuna installazione non c'entrano niente quest'oggi iniziamo a vedere qualcosa di diverso oggi ragazzi vediamo un gameplay giocato sul computer che non ho mai fatto vedere andiamo a vedere tarzan non posso purtroppo mettere lo schermo intero perché se no mi blocca la registrazione quindi sono obbligato a giocarlo così portiamo con il primo livello welcome to the jungle benvenuto nella jungle tarzan piccolino poi diventeremo adulti col passare dei livelli molto bello come gioco fatto molto bene vediamo i tasti se mi ricordo un attimo sto così questo ok con la faccia in super su quello con sitre al cane salto perfetto andiamo a prendere la le prime monete attenzione a tutti quelli che potrebbero essere la banana e la vita monete ok potrebbero essere anche le liane attenzione a questi questi vanno presi appunto ok l'abbiamo battuto basta tirare un po di vita l'uccello insieme ai passerottini lì questo ci toglie un'energia ma vedete che possiamo andare sopra in teoria vediamo di riuscire e le daie come solito arriva il gorilla a spiegarci le spiegazioni non mi interessano le spiegazioni vedete che ci dobbiamo per forza arrampicare proseguire qua ci sono anche dei fogli da raccogliere vediamo un altro babbino da uccidere ok vediamo la t è la prima lettera che appunto corre dobbiamo trovarle tutte per completare credo per fare un livello bonus mi sembra la vita ok arriva arrampicchiamoci sulle liane prendiamo più monete possibili per completarle tutte se riusciamo a prendere tutto è tanto meglio qui non ho niente benissimo un babbino abbiamo ucciso questo noi saltiamo avvitando l'ostacolo altre monete lì ma non possiamo andare ci abbiamo visto la una banana attenzione agli uccelli ovviamente che ci tolgono energia lanciandoci la cacchetta un'altra insomma qualcosa queste ghiandole perfetto abbiamo completato questa cosa non c'è notato energia checkpoint di salvataggio gorilla vai pure via non interessa abbiamo trovato una r che si trova quindi per capire come fare a salire sull'albero che adesso è l'unico punto che vediamo come hanno potuto i tanti per dire qual è quello per salire questo ci fa vedere checkpoint 8 avvento no no niente no 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 Grazie a tutti Eccolo qua ragazzi Ci ho messo un bel po' Ma alla fine ce l'ho fatta Con invio si va sopra E con invio anche ci si può muovere Figata Adesso torniamo indietro e saltiamo Sicuramente la lettera R trovata Il foglio Uno dei pezzi del foglio Il primo pezzo appunto Si ok la batteria è quasi scarica Va bene Ho capito Quindi ragazzi tra poco terminerà il gameplay Ok la batteria scarica Mettiamo questo esserino strano Una Mette ok Il babbuino l'ho trovato lì No non voglio attivare i testi permanenti Non so perché non lo fai Vengiamo il gioco Babbuino tuccareta Ok La Z La Z A parta lettera Il cervo simpaticissimo Perché ci permette di saltare Ho preso la Quello che mi interessa è quello Questo ci trova le energie Un altro pezzo di foglio Foglio Secondo Terzo pezzo Non riusciremo a completare il foglio Vabbè Eccolo qua Qualche parte del foglio Ok Ho eliminato anche sto esserino fastidioso Ed è finito il livello ragazzi Vediamo Si ho completato tutto Ma non ho completato tutto il coso Purtroppo Non mi manca un pezzo Non credo di aver ricevuto il bonus No Mi mancava un pezzo della foglia Quindi niente Ragazzi Bene Il Il gameplay termina qua Anche perché mi si sta scaricando la batteria del computer Se volete un altro gameplay Di un qualsiasi gioco che ho Disponibile Vediamo se riesco a farveli vedere Giochi Sono Bat City Nightmare Creatures Pac-Man Super Mario O appunto Tarzan Non posso farvi vedere Pokémon Perché non è possibile Giocare Ragazzi Ragazzi Io vi saluto Perché la batteria si sta scaricando Ciao Non ti Grazie a tutti